Allora è importante recuperato e si può stare, è stato molto fischia, è stato atterrato, è stato atterrato in piena area di Boloni, stava entrando solo davanti agli ali, è stato messo giù, purva azzurra e tutto il Senigallia che protesta, protesta ed ora anche un cartellino, ed ora anche un cartellino giallo, probabilmente all'indirizzo di Bradaschia, ammonito il giocatore Comasco, ma azione molto, molto dubbia, l'arbitro anche in questo pangente non ha fischiato la caccia di rigore a favore Ottomio.